Eseguiamo un progetto con connessioni dirette implantari di IDES. Sono andato a selezionare il numero del dente o i denti dove dobbiamo costruire il nostro manufatto e abbiamo selezionato sovrastruttura avvitata per tutto quello che è avvitato diretto. Nel caso dovessimo fare un abattement personalizzato, anziché sovrastruttura avvitata, andremo a selezionare abattement. A questo punto abbiamo le nostre scansioni intraorali dove abbiamo la scansione importata con lo scan body e la scansione del master, che è quella beige che potete vedere. Vado a dare l'orientamento del progetto, visto che lavoriamo con il software MINE, lavoriamo in Z, quindi dall'alto, quindi devo vedere l'occlusale, e selezioniamo avanti. A questo punto andrò a selezionare la libreria DES con la connessione diretta, scegliendo intraorale se ho delle scansioni intraorali o desktop se ho utilizzato lo scanner da laboratorio. A questo punto vado a selezionare il mio impianto e vado a selezionare ENGAGING. Vado ad accoppiare il mio scan body dando un punto sulla superficie dello scan body e vado a cliccare ADATAMENTO BEST FIT. Se tengo premuto CTRL vado a verificare che l'adattamento è avvenuto correttamente. A questo punto vado avanti e proseguo col mio lavoro. Quindi andrò a selezionare l'emergenza e poi andrò a costruire il mio manufatto. Vado avanti velocemente per farvi vedere che cosa ottengo poi alla fine del lavoro selezionando poi la mia libreria e il mio dente abitato. A questo punto io vado a proseguendo con il lavoro vado a selezionare il mio dente lo vado a inserire ovviamente nel mio modello seguendo tutte le procedure necessarie della modellazione e successivamente posso andare a controllare e a modificare l'emergenza. Una volta selezionato e finito il mio dente e la mia modellazione otterrò che cosa? Andrò ad ottenere quelle che sono le connessioni implantali in base alla libreria che ho scelto. A questo punto avrò la mia connessione diretta quindi come potete vedere avete la connessione diretta dell'impianto che abbiamo selezionato precedentemente in questo caso abbiamo uno SCRUVENT di Zimmer e posso andare a fresare la connessione diretta con le librerie DES questo è la fine del lavoro nel caso volessi andare a modellare anche il modello a creare anche il modello di stampa una volta importati e installati le librerie per gli analoghi posso andare anche a rieseguire il modello a creare anche il modello di stampa